buongiorno buongiorno direzione colazione perché poi si va a girare in mtb vado sono vestito come un vero biker puro sangue nonostante io non possa assolutamente freggiarmi di questo titolo ma perché oggi giro con un vero biker puro sangue ciao davide come stai bene bene beh dopo il giro di ieri che era una roba un po di ambientamento super easy oggi facciamo il tuo core business chiamiamolo così andiamo in crescendo oggi è un intermedio sempre romantico con il panorama perché quello ci sta sempre e poi magari teniamo l'ultimo giorno per fare una cosa un po più aggressiva e mi darai anche un paio di consigli così lavoriamo un po su questa mountain bike mi dai consigli sulla comunicazione e tu mi dai consigli sulla mountain bike si va beh quegli inizi morbidi al 12 per cento col vento contro giornata ventosa con un bel cielo pulito però questo è il prezzo da pagare è capito napoleone sentiero v15 facile categoria elba adesso liberato il centro eccoci here we are lasciato la epic in deposito vado a mangiare qualcosa dopo decidiamo cosa fare pomeriggio perché poi domani mi aspetta un'altra uscita sempre con davide la mattina oggi camminato niente ecco le scatole a cross country proprio ormai mi sono abituato se avete seguito gli altri vlog delle altre giornate avrete capito che lo schema classico ormai è mattina attività la pomeriggio relax vicino alla piscina relax in zona piscina cosa che abbiamo fatto anche oggi e adesso andiamo a cena a porto azzurro porto azzurro adesso andiamo in cerca di un ristorante che c'è stato consigliato molto carino a porto azzurro adesso rientriamo alla cona al residence il mandorlo domani altra giornata di riding in programma con davide rientriamo alla cona approfitto di questa bellissima serata per chiudere il vlog di oggi vi ricordo che cercherò spero di riuscire a farlo di spezzare in due i video della giornata e all'interno l'attività che abbiamo fatto oggi era mountain bike con davide di 365 mountain bike quindi troverete i video singoli delle singole attività farà la camminata il primo giorno al mountain bike di oggi e quello che farò domani sia in video singoli sia all'interno del vlog di ogni giorno un mini richiamo delle piccole clip ci vediamo domani ricordatevi di iscrivervi al canale col tasto qua sotto lasciate un like se vi è piaciuto il video un commento se volete chiedere qualcosa in descrizione metto tutti i riferimenti come sempre quindi ci sono tutte le informazioni del caso e ci vediamo domani ciao